ok vediamo sono riuscito a prendere il monetto benvenuti tutti a questo bellissimo gioco di birra benciù aspetta voglio salire sull'edera voglio salire oh che derata qualche fiori che ci sono che fiorellini mamma mia no cosa è successo devo andare nell'acqua adesso si arrampica sulla rete è andato sott'acqua è andato sott'acqua oh che bello questi chi sono? sono volati via devo girare a destra con l'orsetto mamma mia spettacolo al game beautiful game oh yeah sono riuscito a nascondermi quando sono arrivate le api sei l'unico orso che non hanno catturato penso che dovremmo fare squadra per liberare i nostri amici potrei darvi qualche consiglio sui dittorni ho visto delle api che portano gli orsi al villaggio delle tartarughe mi è fortuna la piattaforma che porta al villaggio delle tartarughe funziona ancora andiamo a liberarli poi possiamo andare nella valle in nevata oh la valle in nevata andiamo potremmo anche esplodere il deserto di Bimotec che bello super beer adventure non toccare bellissimo sto gioco vado io vado io quello giallo devo prendere il fiore giallo? no di qua dove? di qua qui? ah devo fare di giro aspetta mamma mia un attimo è spettacolare sto gioco troppo bello cosa devo fare? fammi vedere dov'è che devo andare? di qua di qui? di qua? dove? di qua? dove c'è il potere domanda? qui? 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 qua di qua di qua ah ok cosa devo fare? sono volati? sopra sul cubo sul cubo? no qua nell'acqua? no sopra di qua qui? esco sono super beer dov'è che devo andare? dov'è? fai vedere di qua no ah è andata sulla freccia? quella quella questa 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 no di qua di qua di qua di qua qui? qui? di qua che cosa devo fare? no ah è andata al villaggio delle tartarughe? si mamma mia adesso vediamo oh la peppa birra è volato non è andata al villaggio delle tartarughe che era un posto in canterra si senti così andata al villaggio delle tartarughe che era un posto in canterra no la nero non prende le monete? no con la nero con la nero si con la nero 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 di qua giù vediamo 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 questo quello questo questo cosa devo fare? no questo questo no quella la b e come faccio a farlo? tiralo giù la b la b ah brava lo sei meglio di me ma che roba che esperta eh dove c'è andata ah scari ecco dove vado? con la nero con la nero ma la cagatura mi sono saltato in testa il cuore ha messo il cuore rosso di qua qui? no il cuore rosso il cuore dove andare sul sasso? di qua qui? ah il cuore rosso brava e adesso ah la tartaruga la tartaruga e poi? è di qua sola aspetta quello giallo quello giallo cosa devo fare? ah capito il cuore di altro brutto mamma mia il cuore di altro e le labbi non c'è rabbi non c'è rabbi è quello nero di qua di qua nero di qua nero di qua nero dovrebbe essere l'acqua no di qua no no ah aspetta un attimo 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 aspetta un attimo